Ciao, sono Davide. Ciao, sono Cristian. Siamo due studenti di Politecnico di Torino e vi vorrei mostrarvi come funziona per l'assignamento di computer architettura del 2014. Questo circuito fu implementato su un toolboard full runner, e fu designato per implementare due operazioni su due input, A e B. La prima operazione è il logaritmo di 1 plus A, con A ranging da 0 a 0.5, e con l'accurazione di 3 visionali, senza frondi. La seconda operazione è la substituzione di A-B, con supporto per negativi risultati. Enjoy! Ci sono due strumenti sul board, che sono usati per scegliere tra gli operandi, A, B e le due operazioni matematiche. Ci sono due bottoni sul right del board. Il primo è usato per incrementare il digitale scegliere del operatore corrente. Il quale bottone può essere semplicemente presso o presso per più di mezzo di un secondo per attivare la sua funzione. Il secondo bottone è usato per cambiare tra i modi di operazione operandi, dei modi di operazione operandi, visto dai 4 leds, sotto il display del segmento scegliere del settore. Il secondo luogo è usato per cambiare di operazione operandi, ma un'ascoltore che si trova dalla precedenza operandi, i non più attrazione di operazioni operandi, e welcomeviare la posto per cambiare della situazione della sua fondazione. Il secondo Chef Dio, l'acqua dei La Froddisi del rischio Il operativo operativo A può ancora essere modificato durante la operazione lock. Il botone secondo può essere usato anche per entrare il modello di reset e anche il modello di studenti. Pressing the first button during the student ID mode switches between our IDs. Peace!